ciao a tutti ragazzi lei è Sofì e lei è Vittori e benvenuti in questo nuovissimo video state ben attenti perché facciamo un numero particolare ah comunque vi dicevamo benvenuti in questa nuovissima slime challenge chissà quante ne avremmo fatte fino ad ora ma comunque sì ma questa dovrebbe essere una cosa migliore oggi sono andata al laboratorio di Zubbolandia a comprare questa e poi laggiù c'è anche un'altra cosa che serve vabbè intanto per ora ce l'abbiamo eh va bene allora oggi abbiamo qua tutte queste altre cose ho preso un sacco ci puoi iniziare? sì allora carta pietra vai nanna mescola vado? insomma non mi dè nulla perché? tutta te quella io cosi neri o ce la sono? questa la possiamo scusate era la batteria è già finita? no va nanna va nanna va nanna mescola vado? no aspetta ma io ho tanto preparato purtroppo però non abbiamo il bicarbonato ci stiamo scordati vado oh che bello quello migliore tanto bello prenderò anche io si capito un pochino già che c'è lo esageriamo basta 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 posso mescelo di me vai il bicarbonato ti prendi dopo il bicarbonato è ora è ora è ora vai qui qualcosa di basso dai no allora è inutile fare occhi chiusi prendi l'occhi si vuole dai dai no aspetta ho visto vai e allora ti hai visto un male vai è stata bene l'avevo messo in sopra per fare sempre attivare perchè non facciamo due design challenge? che senso? cioè facciamo due partite beh ora è tardi non si può fare due partite no te no anch'io un po' ma già devo scendere ora mi tocco il cavallo troiaio nanna vado? no devo miscolare aspetta miscola miscola la colla che serve per fare lo slice no no c'è una pezzoppa basta yeah tanto ce n'è un altro e ragazzi ci siamo dimenticati tutto è il più è il meglio vai 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 ci vuole anche vetta io non ho nessuna colla per adesso vai la colla se la metto la prendo perchè la colla è indispensabile vai su ora senza stare a pescare no dai devo miscolare a te ti levo la colla perchè se no ce ne metto te ce ne metto finisco faccio tutto colla vai vogliamo bassi cos'è? mamma mia ve lì brutta però fa colore ci vuole la palettina sennò ci fanno eh si vabbè dopo ne andremo a prendere su vai nanna mescola danna rimetti neanche a me la colla anche la colla ci vuole cerchi qualcosa di altro ma sentite va bene no ma poi siccome mi ha fatto tutto un silenzio cioè se non c'avevi la rinfa ci vuole nulla basta no basta troppo vabbè tanto ce n'è capito me la regalano mia ce n'è in dentro ma ci vuole nanna ti devo mescolare no queste cose vedi gli occhi non c'è nemmeno non c'è nemmeno apro? no adesso dai ti tolgo tutti gli ingredienti che però nanna che c'è eh se no te ne hai sempre so perché ti tolgo sì vai vedi no vabbè vabbè mh come si è bella vabbè qui sta ok non c'è bella per me, tranne la colla, vai, ma qua non c'è, no, non so, devo, dai una ricerca, no, no, devi rimettere anche questo, vai, anche questa, eh, allora tutto ci vuole, perché la colla? Sì, ce ne metto quanti ne ho, ok, ora si può cominciare, no, te però devi mettere quella, sì, quella ce l'ho messa, e poi ci vuole un po' di bicarbonato, e le palettine, se no bisogna il ditone, no, no, puoi staccare il dito un attimo? Sì, ragazzi, ragazzi, guardate che bello, aspetta, dobbiamo aggiungere il bicarbonato, ora vedrete cosa viene fuori del lavoro esagerato, non esageriamo, perché questo bicarbonato è più che rosco, puoi vi farò vedere qual è più che sembra, gometiccio, gometiccio, sbiasciato, non è proprio, bello, è proprio bello, non c'è un po' di ristorina, no, anche a me è schifo, è uno schifo, c'è appena appena di brillantini, era meglio andare, è tutto da fare, ma c'è la meraviglia, ma, le canza, pene, i miei sono i colori della galassia, è una galassia, la meraviglia, questo bicarbonato, è una schifezza, il rimediano, che schifezza, il rimediano, questo bicarbonato, ci vale un po' di ristorina, no, 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 il mio prende forma, colore, sempre più gometiccio, e poco bello, te eh, tra, ok, se inizi, si va, vai bicarbonato me lo metto da me perché te me lo metti troppo se ne vuole poco sennò si fa come prima vai su tocca a te vai dobbiamo cercare di venire a te è sempre meglio eh che bello non esagerare esagero vai basta nonna questo va bene però per me è troppo forza dai tocca a te vai aspetta vai tolla ci vuole meno male meno male è un po' più basso si schizza e lo lì mi circolami basta addio so no tocca a me Luke aspetta rimettola non mescolare vai è qualcosa di alto allora è facile intanto proviamo a cominciare e ci si regola capito? va bene se si va bene è tinta con quello che ho lasciato qui ora funziona bene che bello nonna dai su tutto a me però io direi che comunque potremmo già lasciare capito perché è meglio andare per i gradi però quando ci vuole qualcosa non si può secondo me però è più bello così è entrato io voglio più bello più bello sono bei colori più rovesci metti e più viene una porcheria non tanto e basta fai questa cosa è finita no non è finita guarda qui ce ne può io aggiungo un altro po' di glitter perchè non fa pochi sai non ci metto un po' di questo ma non basta che vieni vieni vedo che hai fatto la lemosina wow ci hanno dato una bottiglia vedi anche l'oro lo scurisce invece questo ha un colore unico questo qui è bellissimo sai che ho finito io? è più bello così io ci metto un bel po' di bitterbonate non ci metto un bel po' di bitterbonate non ci metto un bel po' di bitterbonate non ci metto un bel po' di bitterbonate no io stavolta non ce lo metto il liquido per lentino no si prova a farle una ragionata che sta che venga meglio peccato che non ci vuole non ci vuole un po' ci va a messo non ci vuole non ci vuole non ci vuole carbonate o poco? no di più io ce ne ho messo tantissimo non ci vuole io ce ne metto tanto perché il mio sta prendendo forma comunque i colori sono più belli si il mio sta prendendo forma si mi sta prendendo qualcos'altro la forma di una cosa no ora non è quel colore proprio come dice questo è prima di vomitare no mi sta troppo liquido questo no questo no questo nemmeno si forma perchè ci metto troppa roba in funglia no mi metto un po' sai voi stai per ragione ma perchè è indurito o si scura no ma non è indurito questo questo è liquido ho capito indurito no ma ci vuole un po' di bocciole ci vanno messi per i gradi quando c'è bisogno ci vanno aggiunti questo dentro è diventato una pietra perchè ci vanno messi per i gradi quando c'è bisogno ci vanno aggiunti questo dentro è diventata una pietra questa è pietra questa è pietra il mio non si forma è già pietrito il mio non si forma il mio non si forma il mio non si formerà no si 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 sta formando si sta formando anche il mio ecco ecco un po' di bianca rosso un po' di bianca rosso un po' di bianca rosso è il mio non si forma il mio non si forma mamma non si è formato il mio cosa c'è sta mamma c'ha da fare cosa ci fa mamma eh? non sai che ci fa ci lecca eh no questo mi sa formoso davvero ma il tuo è bellissimo ma il tuo è bellissimo bellissimo ha un colore stupendo ma come mai i tuoi si formano? perchè te tu piace guarda ti cura tutto wow credi il mio c'è anche la pancina questo era rimasto sul batter sei troppo bravo eh fate uno studio mettete un cerio se che ti abbia fatto tutto il pomeriggio ho studiato a fare questo orcheria lì sembra ordinato